Confermo il mio impegno per la città e quindi ho deciso di ricandidarmi. Piero Fassino scioglie le riserve e comunica l'intenzione di presentarsi alle elezioni della prossima primavera per il secondo mandato. Il cambiamento di Torino è cominciato ma abbiamo tante cose ancora da fare insieme. L'annuncio della ricandidatura di Fassino è avvenuto ieri mattina in occasione della festa per la conclusione del progetto Urban Barriera Milano, che ha riqualificato una parte del quartiere periferico della città. Erano presenti tra gli altri gli assessori comunali Gianguido Passoni e Ilda Curti, la presidente della circoscrizione 6 Nadia Conticelli, il presidente del consiglio comunale Giovanni Porcino e il leader dei moderati l'onorevole Mimmo Portas. Presenti anche il segretario provinciale del PD di Torino Fabrizio Morri e lo staff del sindaco al completo. Questo è un luogo simbolo della trasformazione della città, ha detto il primo cittadino, commentando il recupero dei 65.000 metri quadrati dell'ex Incet, fino a qualche anno fa fabbrica di tubi ed oggi nuovo centro nel quale saranno collocate attività di ricerca e innovazione. La storia della città ha detto che ha saputo cambiare se stessa e rilanciarsi e sarà così anche nei prossimi anni, quando la zona nord diventerà il centro della trasformazione di Torino. Certo, la notizia della ricandidatura naturalmente circolava, ma continuava a non arrivare in modo ufficiale e il ritardo iniziava ad apparire strano. Abbiamo una lunga campagna elettorale davanti, ha detto Fassino, e l'annuncio anticipato della mia ricandidatura avrebbe nociuto all'attività amministrativa. Ai cittadini chiediamo il voto per continuare a farlo. Abbiamo retto alla crisi, abbiamo sfidato creando nuove occasioni di crescita. Questi sono stati anni in cui lo sviluppo della città ha conosciuto il rilancio. Nessuna competizione elettorale è facile e scontata, ma penso che noi abbiamo governato bene, dimostrando di saper guidare la città. Il centro-sinistra ha il dovere di presentarsi unito, perché questo chiedono gli elettori. L'annuncio della ricandidatura a sindaco di Fassino da un'ex fabbrica in barriera di Milano rappresenta tutta l'ipocrisia di cinque anni di governo cittadino. Ha invece commentato Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale. Non lo si vede nelle periferie di Torino della campagna elettorale del 2011 e ci ritorna per cominciarne un'altra. Rivederlo solo per fare altre promesse, tagliare nasta e prendere in giro i cittadini ancora una volta, ci riempie di amarezza, dicono dal carroccio, perché se davvero voleva fare qualcosa, doveva farlo subito. Per questo il nostro impegno triplicherà da qui alle elezioni, così da poter pensionare lui ed evitare che un altro partito di sinistra, come il Movimento 5 Stelle, possa mettere le mani sulla capitale Sabauda. Ed è arrivato un commento anche dai pentastellati. Sono contenta che il sindaco Fassino abbia finalmente rotto gli indugi. Adesso potremo confrontarci su programmi e bisogni della Torino che vogliamo costruire, dice sui social Chiara Appendino, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle. Abbiamo iniziato a presentare le nostre proposte elaborate con i cittadini e ci stiamo confrontando quotidianamente nei mercati, nelle piazze, nelle assemblee, per cogliere le esigenze di tutti, in particolare quelli che sono rimaste inascoltate in questi anni. La Torino sicura, sana e solidale che vogliamo si costruisce con l'ascolto attento e la partecipazione.